PEGI 18 L'ho convocata qui oggi perché la situazione è molto grave. I nostri servizi segreti confermano l'esistenza di una minaccia che non si è mai vista prima. Un'organizzazione in grado di colpire dappertutto e in qualunque momento. È altamente letale e non fa differenze di età, religione o nazionalità. Il potenziale di perdite umane e di terrore psicologico è molto alto e non possiamo ignorarlo. Siamo alle prese con una vera e propria incognita. Non ci rimane altro che rispondere alla forza con la forza. Da questo momento il mio programma è riattivato e ho deciso di affidare a lei il comando delle operazioni globali. Bisogna reclutare operatori dalle elite delle forze mondiali. Confini e protocolli sono irrilevanti. Noi dobbiamo essere lo scudo che protegge il mondo civilizzato da chi vuole attaccarlo. Non importa dove i nostri nemici colpiranno o come cercheranno di difendersi, il Team Rainbow deve essere sempre pronto. Noi dobbiamo essere lo scudo che i nostri nemici colpito. Grazie a tutti.